Ma che cazzo? Ma non si può riposare un attimo qui? Ma che so tutte queste notifiche stilestate? Ma come va? Che c'è? Che succede? Chi è? È arrivata la Roma! Dove vai? È tornato! È andata la Roma! Avete preso! Tenacomica! A Roma! A Romani! A Romani! Tenacomica! Che l'ha già detto? L'ha già detto? È un sogno! Ti favo finta un bambino! È un sogno di giocare con Borigno! Ho sempre desiderato! Giocare per la Roma! Per questi tifosi! L'ha detto? Aggiornatemi perché non ho seguito tutto! Ho sempre sognato a giocare per la Roma! Io vado! Tra tutti siete una comica! Guardate! Tra i cartonati! I gobbi! Voi ora! Grazie a tutti! Siete una comica! Guardate! Siete una comica! Dai 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 dai! Io ora vi dice tu fra sia d'effetto! Siete già tutti con la brodo! Siete tutti bagnati! Già colate! Vi ci vuole tampone! Di Tampax a quanto colate! È vero? Siamo da scudetto! Giocate come cani! Ma che scudetto! Mamma mia! Buon! Vai via! Eritiamo i herti laiksoa! Che che stai! Ciao!